Datti estremamente preoccupanti per quanto riguarda l'aumento del livello dei mari. L'aumento della temperatura terrestre sta portando di fatto a un innalzamento del livello dei mari e che coinvolgerà nelle conseguenze soprattutto le città costiere e dell'Asia in particolare, là dove si trovano i grandi agglomerati urbani, dove potenzialmente 600 milioni di persone potrebbero trovarsi coinvolte dagli effetti dell'inalzamento dei mari stessi. 4,1 mm all'anno, questo è il livello d'aumento progressivo che si sta avendo in questo momento con una riduzione dei ghiacci delle calotte polari del 20% e città come Mumbai, come Shanghai, si trovano a dover affrontare in futuro, in un prossimo futuro, delle problematiche decisamente importanti. basti pensare che in Indonesia la città di Jakarta verrà sostanzialmente trasferita, trasferita nel Borneo laddove sorgerà la nuova capitale. Jakarta in questo momento vede il 40% del suo territorio già colpito dagli effetti dell'inalzamento dei mari. La stessa Mumbai, 20 milioni di abitanti nel 2050, vedrà l'80% del suo territorio colpito dalle conseguenze dello stesso innalzamento. insomma problematiche che in questo momento si stanno affacciando nel contesto globale in modo assolutamente serio e preoccupante.